Previsioni meteo per mercoledì 19 dicembre al nord, annuvolamenti sulle regioni orientali a tratti intensi con deboli precipitazioni variabili altrove, al centro e al sud nuvoloso, poco nuvoloso, attenzamenti sulla fascia ionica e sulle regioni adriatiche con deboli novesci. Venti moderati nord-occidentali sulle regioni terreniche, mari da molto mossi a mossi, temperature minime in diminuzione massime in aumento.